Ciao a tutti caciotti, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft ETA Sono un po' devastato da queste giornate che sto vivendo signore e signore Devo dirvi la verità, perché ci sono tantissimi progetti Ma dei progetti super segreti che ancora non posso rivelarvi Che mi stanno tenendo straoccupato Per non parlare del fatto che c'è Minecraft ETA Allora, io ho lasciato il computer Più notti a FK Cioè non più notti, in totale una notte e mezzogiorno Però è come se, cioè tanto tempo Ho lasciato il computer a FK tanto tempo E ho preso un botto di ferro, un botto Ma il problema è che il botto di ferro che ho non basta Sono riuscito a fare questo Allora, come vedete ci sono delle modifiche Ho messo tutti gli hopper alla prima fila e alla seconda fila E per mettere solamente questi hopper Ho utilizzato tutto il ferro che ho preso Durante questo periodo di FK Potete immaginare quanto ferro è? Potete immaginare Comunque, ho anche rimosso le torce dalla linea di terra Lo inserite su un'altra linea di slab accanto alla terra Perché non posso lasciare gli alberi lì Che magari me ne scordo uno e poi espone un creeper Arrivo qui, esplodo il creeper Mi perdo tutto il lavoro E è un casino boia Meglio di no Meglio di no, molto sinceramente Comunque, c'è tutto Ho anche sottovalutato la quantità incredibile Ma davvero incredibile Di bon meal che va all'interno di questa super macchina Nel senso, ogni dispenser deve essere quasi pieno Questo me lo sono completamente scordato L'ho dovuto riempire manualmente Ho dovuto riempire tutto manualmente e vi spiego perché C'è un problema in tutto questo hopper che sto facendo Che la prima linea di hopper, sì È tutto che va avanti verso destra, verso destra Il problema è che tutti gli hopper vanno riempiti Quindi si autoriempiono E fin quando ce n'è uno vuoto Dovrebbe essere qua vicino Quando ce n'è uno vuoto Anche se il dispenser è tutto pieno Continua a riempirlo Quindi ogni hopper Ogni dispenser è come se non avesse 9 spazi Ma come se ne avesse 9 più 5 14 spazi Vabbè, quindi non sto qui a parlarvi Di quanto vi abbia sottovalutato questo progetto Anche dal punto di vista del bon meal Che ok, ho una super fan che me ne dà un botto Ma comunque se devo portarla avanti e indietro È un po' uno sbatte incredibile Allora, come vedete Due linee sono attive Potrei restare a FK altri due giorni No, due giorni di eccessivo Perché alla fine le ore che sto a FK non erano tantissime Però non ho avuto modo di lasciare il computer acceso Proprio perché ero fuori casa È un casino Comunque, due linee sono attive Le altre due no Ho fatto circuiti anche per queste Ci sono dei repeater Che partono da un clock Che ho messo in una stanzetta qui dietro Il clock è molto semplice C'è un comparator E c'è un repeater puntato verso il comparator Con 4 di delay E viene una cosa di questo tipo Potrei anche renderlo leggermente Più temerato O così Così funziona? Così funziona ed è molto veloce Beh, perché no? Perché no? Teniamolo così Ok, io all'inizio l'avevo messo a 4 Però vedete è molto lento Lo teniamo su 1 Così andiamo a una velocità incredibile Ah, nonostante sia pieno Anche se non c'è il Come si chiama? Il sapling davanti Per fortuna non spreca il bon meal Quindi siamo protetti da questo punto di vista Anche per fare il test che ci sta Che andremo a fare in questo momento tra l'altro Allora, questi test sono tutti i sapling che ho a disposizione Più che altro che ho nel mio magazzino centrale Avrò altri sapling sparsi in giro per il mondo Ma non sono andato a prenderli Preso solamente questi Anche perché riesco a fare la prima linea Faremo un test con la prima linea E capiremo il farsi Con la mia ascia abbatterò tutti questi alberi Sperando di ottenere una quantità di legno incredibile Così magari avrò le ceste per fare tutti gli altri opere Perché per fare tutta sta roba ragazzi serve un botto di legno Un botto di legno Una quantità incredibile Comunque facciamo il primo test con la linea completa Mancano solo 12 sapling quindi non provo neanche a metterli di qua E vediamo quanto tempo ci vuole Perché tutti gli alberi crescano Vedere se crescono tutti come si deve E tutte le cose che ne derivano Signore e signori È il momento della verità Questa farm d'alberi incredibile Che ora farò un bello screen Guarda Ho installato le shaders per fare il video del diario del supremo guerriero E quindi tanto vale usarle per fare la copertina No? Come l'ho detto Viene un po' una cagata Perché è tutto molto molto buio Soprattutto di qua Vabbè Vabbè Come l'ho detto Disattiviamo Boom Un bello screen per la copertina Et voilà Allora Ci proviamo? Proviamoci Eh io direi Disattiviamo questa linea Perché non voglio casini con rumore E facciamo partire il timer Signore e signori Il primo albero sta crescendo Crescono 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 Attenzione Ce la facciamo Lasciare stare il super casino Che stiamo sentendo in questo momento A livello di audio Perché davvero non si capisce nulla Non riesco a capire quello che penso Ci siamo quasi Ci siamo quasi Guarda qui Guarda come crescono Crescete Crescete Piccoli pezzi di legno Crescete Da tutta prima parte c'è Vediamo Finché non cresce tutto Io lo lascio Nel senso Sì Magari spreco Un botto di bon meal Eh sì Davvero un botto di bon meal Però va bene Perché no Nel senso Ok Cresciuto Cresciuto Ci siamo? Signori ci siamo Ora purtroppo C'è Tutto questo lag Con un solo Una sola linea attiva Immagina se avessi Quattro linee attive Che cosa succede? Ecco Ora arriva la parte Divertente Tra virgolette La parte in cui Devo abbattere Tutti questi pezzi di legno Ora per fortuna Siamo limitati Dall'altezza Di questa cosa Quindi non dovrebbe essere Troppo un problema Una cosa che potrei fare È salire qui Andare avanti così Spaccare tutto E vedere Quanto legno mi dà Voglio vedere Una linea intera Quanto legno mi dà Quanto mi genera Perché più o meno L'altezza degli alberi È questa Come vedete Il livello massimo È questo qui Difficilmente Troverò un albero Che supera Cosa? I quattro livelli di legno Quindi potenzialmente Sono 68 per 4 Sono più di 200 pezzi di legno Potenzialmente 300 a dirla tutta Ora io spero anche Di ottenere Una grande quantità Di sapling In tutto questo Mi sono appena Resu conto Di aver fatto un errore E non poco grave Cioè mi sono scordato Di mettere Degli slab Sopra gli hopper Potrebbe sembrare Una cosa Ininfluente Ma in realtà Non lo è Perché in questo modo Quando cadranno tutti i sapling I sapling Cadranno all'interno Degli hopper Sulla mia sinistra E quindi andranno all'interno Dei dispenser Quindi io devo passare Per tutti Per tutti i cosi Per tutti gli hopper E rimuovere I sapling Anche perché Uno Altrimenti Non ho più sapling Da piazzare E non va bene Due Si inceppa il tutto Perché se mi entra Un sapling Detto il dispenser Il dispenser Non sa che farci Con il dispenser Con il sapling Cioè lo lancia via Ma a me non serve Che lo lanci via A me serve Che abbia il buon meal Per far crescere l'albero Comunque Direi che l'esperimento È riuscito Forse avrei bisogno Di inserire qua dentro Una bellissima E simpaticissima Un beacon Praticamente Con haste 2 E un ascia Con efficiency 5 I am breaking Non sarebbe una bruttissima idea Dovrei anche dedicarmi A questa cosa Cioè raccogliere Tante esperienze Per fare tanti libri Non sono cose Che si fanno Nei video Perché sono cose Molto tediose Lunghe Però potrei fare Magari una live Non ne ho mai Il tempo nella vita Da qui fino a gennaio Però potrei fare una live In cui Metto Mi metto a Non lo so Farmare esperienze E a fare libri Una live muta Con la musica sotto In cui farmo solamente libri Quanto sarebbe brutta Va bene Però no A parte gli scherzi E' quello che devo fare Quindi magari A quel punto Mi metto davvero a farlo Con Con una bella live Ma non ho mai il tempo Di farlo Quindi è utile dirlo anche Perché lo dico Se poi so già Che non posso farlo Guardate Tante mele Tanti Tanti alberelli E vediamo quanti Log mi ha dato In totale Abbiamo 1 2 3 4 stack E 16 272 Blocchi Di legno Che non sono pochi Perché se moltiplichi Poi 272 Per 4 Abbiamo quasi Anzi superiamo Le mille unità Di legno Un sistema Che è relativamente Semplice Certo Bisognerà riempire Di nuovo Tutti gli hopper Non dovrò riempire Io Dovrò riempire Il sistema automatico Con la cesta A capo Della linea Però Ci siamo Ci siamo Perché no Ora io ho solo paura Come vi dicevo Che qualche alberello Sia caduto All'interno Degli hopper Ora per fortuna Molti di questi hopper Sono già pieni Di bombial Però guardate Qui ad esempio Ci sono Ci sono degli alberelli Che sono entrati Quindi io dovrei controllare In realtà Tutti questi hopper Dovrei controllare Tutti uno a uno E dovrei anche fare in modo Di mettere Il prima possibile Degli slab Ecco guarda Ad esempio qui Un altro alberello Gli alberelli Non ci devono essere Perché nel momento In cui si svuotano I dispenser Poi noi siamo messi Davvero male Quindi devo controllare tutti Spero non vi stia Vedendo un attacco epilettico Sto suonando Molto molto veloce Oh qua c'è una mela Oddio vado così veloce Che non mi rendo Neanche conto Se effettivamente c'è qualcosa Ok Ora a questo punto Io direi Proprio per stare in tema Che potrei usare Proprio 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 Io spero di raggiungere Almeno il doppio Dei sapling Che avevo all'inizio Tra l'altro Perché altrimenti qui Abbiamo un piccolo problema Di rendimento Proprio palesemente Tra l'altro Sono a uno stack Devo averne Almeno uno stack e quattro Per rientrare nel mio investimento Anzi neanche Perché non avevo dodici Qua all'inizio Oddio speriamo che funzioni Dammi l'alberelli Ho bisogno di tantissimi alberelli Ragazzi per far funzionare Questa roba Ma un botto Tipo Tantissimi Allora facciamo così ragazzi Ho ancora un po' Di stone slab A disposizione Usiamo questi Facciamo così E li piazziamo No no che ho fatto Porca vacca No Ho lanciato Ho lanciato degli oak Così qua dentro E dove saranno finiti Porca vacca Persi per sempre Eccoli Qua ce ne sono 16 Mancano 16 Eccoli Eccoli Mamma mia che ansia Allora a parte questo piccolo polonino Degli slab Che mi ero completamente scordato Dovremmo essere In realtà A cavallo Ma tantissimo Anche in totale Quanti sapling ho portato a casa Mi piacerebbe averne portate a casa Allora in realtà Con tutti questi alberi Capisco che Molte delle foglie si perdono Perché sono attaccati tra di loro Però mi piacerebbe Di portarne a casa Almeno una settantina Quindi almeno Due o tre in più Rispetto all'investimento iniziale Perché è vero che Prendo tutto il legno Ma poi se non ho sapling Non posso farci nulla io E in questo momento Sono sotto Perché ho preso 64 Più 5 Vuol dire che sono sotto Ho perso sapling Perché ne avevo 12 Di già nell'inventario È grave questa cosa ragazzi È molto grave È gravissimo anzi Io speravo di fare un test Con due linee Ma non penso di riuscirci Non ho abbastanza sapling Questa è una cosa Che non avevo calcolato Purtroppo Ragazzi quello che posso fare È un altro tentativo Farò un altro tentativo E spererò Nella quantità maggiore possibile Di alberelli Perché altrimenti Abbiamo un grosso problema Non posso perdere Il 20% degli alberelli Che è piatto Non è sostenibile come cosa Dopo tutto questo casino Che ho fatto Dopo tutta la fam Che c'è stata Ecco la rimango Con un alberello Rimango Dopo tutto il farm Che c'è stato Ci rimango un po' male Se non funziona Porca vacca Va bene Attiviamo il clock Lasciamola andare E vediamo Che cosa succede Boom Clock è attivato Andiamo Piccoli alberelli Infamelli È snervante Mamma mia Il rumore Che fa sta roba Comunque Andiamoci dentro Non vedo l'ora di far Mi lascia con Efficiency 5 E metterci anche La piramide del beacon Con ace 2 Lì davvero Il legno va via Come se fosse burro Ottimo sta anche per finire La Sta anche per finire L'ascia Voilà Perfetto Perfetto cacchio Voilà Ok Ok ci siamo Abbiamo una quantità Di legno Enorme Bellissimo Mi piace tantissimo Vediamo se effettivamente Posso rientrarci Anche a livello Di sapling Non sarebbe una brutta cosa Per niente Ho mezzo stack Che bello andare avanti e indietro Avanti e indietro Finché non hai abbastanza alberelli Per continuare a farmare Il tuo legno È proprio Il sogno di ogni giocatore Di minecraft Anzi Il sogno di ogni giocatore Della skyblock 47 Niente ragazzi Mi sa che questa farm Non è Non è ottimale Dovrei avere Un'altra farm Solamente Per Per gli alberelli Ti rendi conto Dovrei fare Dovrei farmare Gli alberelli E poi venire qui A farmare Il legno Sì O queste poche foglie Che rimangono Mi danno una quantità Di alberelli impressionante Oppure Questo esperimento Potrebbe addirittura Essere dichiarato Fallimentare Con tutto questo Con tutti questi Hopper Mi viene male Davvero Cioè Li prendo tutti E li uso Al mob spawner Piuttosto Tengo attiva Solo una linea E uso gli hopper Per altre robe Per forza Ragazzi Sta salendo un po' L'ansietta 53 Considerando che uno Ce ne avevo già Ho ottenuto 52 sapling Da 68 Alberi Capite Che non va Potenzialmente Bene Ragazzi Non va Potenzialmente Bene Devo ragionarci Un attimo Devo ragionarci Un attimo Perché se devo fare Una farm Solo per gli alberelli Divento scemo Potenzialmente Ditemi qua sotto Cosa ne pensate Nei commenti Comunque Per questo video È tutto Io vi ringrazio Tantissimo Per la visione Ci vediamo Prossimamente Qui sul canale Con altri video Iscrivetevi Se ancora non avete fatto E chiediate sulla campanina Per non perdervi Nessun video Io vi saluto Ciao Tutututututututututti Ciao